Eccoci qua, buonasera, il telegiornale partirà dalla visita a Buccia, proprio al paese, alla cittadina che come si sa è il luogo dell'eccidio compiuto dai soldati russi in Ucraina, da parte del presidente ucraino Zelensky che per la prima volta ha lasciato quel suo bunker del palazzo presidenziale o la località ignota in cui comunque si trovava all'interno di Kiev per visitare i luoghi più vicini a Kiev in cui forte è stato come si sa l'impatto della guerra, non solo Buccia ma anche Irpin dove ci sono stati come si sa scontri sanguinosi, la città di quel famoso ponte che abbiamo visto tante volte ma soprattutto Buccia dove gli errori sono quelli che sono stati purtroppo documentati al di là di ogni confutazione possibile e immaginabile e lì la nostra Francesca Mannocchi ha incontrato Zelensky quindi vi mostreremo ovviamente, ci riferirà di questo incontro ma ci riferirà anche delle tante testimonianze della popolazione civile su quei morti, su quelle uccisioni, sulle responsabilità della Russia, Russia la quale in realtà tenta di negarle in tutti i modi e dicendo oltretutto per le vie diplomatiche agli americani di tacere, di ricordare semmai quello che è successo in Iraq, su Belgrado, quello che è successo alla fine della seconda guerra mondiale, la responsabilità americana e secondo i russi di tanti ecidi, non c'è dubbio che ecidi ci siano stati in tutte queste guerre ma questo non toglie il fatto che la Russia è per i documenti a disposizione del mondo intero responsabile di quello che è accaduto e anche i più prudenti parlano della necessità di fare chiarezza, anche in sede del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che potrebbe riunirsi domani sera proprio su richiesta da Russia che vuole contrattaccare, lì ci sarà evidentemente, se ci sarà quella riunione, un confronto tra le prove da una parte e dall'altra. Ma vedremo anche altro perché oltre alla vicenda Buccia, alla prima volta di Zelensky fuori da Kiev, al reportage della nostra inviata ci sono i fatti. Innanzitutto la Germania nazionalizza le attività di Gazprom proprio all'interno del territorio tedesco, espelle 40 diplomatici russi, poco fa anche la Francia ne ha espulsi quasi altrettanti, c'è evidentemente un'acutizzarsi della tensione tra l'Europa e Mosca. Ma ci sono molti altri aspetti di questa guerra di cui parleremo. In una giornata dove ci sono evidentemente altre notizie ed essendo lunedì è anche il giorno dei nostri sondaggi, ce ne sono due anche riguardanti la guerra e del giorno anche del data room di Milena Gabanelli, proprio su quella che per noi è la battaglia quasi quotidiana della luce del gas alle prese anche con i contratti. Tutto, 30 secondi di titoli. Sulla strage di civili a Buccia emergono nuovi dettagli e testimonianze. Il presidente ucraino Zelensky questa mattina a Buccia ha attaccato la Russia per le atrocità commesse. Vedremo la nostra inviata che l'ha incontrato, ma su quanto accaduto nel paese a 40 chilometri da Kiev il ministro degli esteri russo Lavrov contrattacca definendo la vicenda solo una messa in scena. La Russia intende presentare un dossier al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La riunione d'urgenza sarebbe in agenda domani, ma non è ancora ufficiale. Durissimo il presidente degli Stati Uniti Biden che intende chiedere un processo per crimini di guerra nei confronti di Putin annunciando nuove ulteriori sanzioni contro Mosca. Sui crimini di guerra Biden non ha la coscienza pulita, la contrarreplica di Lavrov. Da Varsavia il ministro degli esteri ucraino Kuleba dice che le ferattezze attribuite alle forze russe a Buccia sono solo la punta dell'iceberg. A Mariupol la situazione è anche peggiore. Sul campo anche l'area di Zitomir nell'ovest dell'Ucraina è tornata sotto il controllo di Kiev. Voci non confermate di una possibile offensiva russa dopo la ritirata dalla regione della capitale. Nuovi bombardamenti hanno colpito Mikolaev sopra Kherson causando diverse vittime. Berlino intanto ha espulso 40 diplomatici russi e anche la Francia poco fa ha adottato un provvedimento analogo. Sullo stop alle importazioni di gas, petrolio e carbone dalla Russia spaccatura tra i paesi europei secco Noda, Germania e Austria. E nel Data Room di Minena Gabanelli vedremo il rebus delle bollette di luce e gas tra mercato libero e tutelato. Buonasera, è il giorno di Buccia. Il giorno in cui il mondo ha potuto guardare a quella cittadina che quasi nessuno di noi conosceva e che è diventato il simbolo di quello che hanno fatto gli invasori russi in Ucraina. Tutto il mondo ha potuto vedere perché gli inviati sono potuti arrivare in quella cittadina ma soprattutto chi come la nostra Francesca Mannocchi questa mattina è andata lì ha incrociato proprio per la prima volta uscito dal suo bunker a Kiev lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Subito il reportage di Francesca Mannocchi. Sono le undici di mattina quando il presidente Volodymyr Zelensky arriva di fronte all'ospedale di Buccia. Ad attenderlo una fila di decine di persone, donne soprattutto e anziani, sono arrivati qui dalle prime ore del mattina a ritirare le scatole di aiuti alimentari dopo un mese di battaglia. Gloria all'Ucraina, gridano tutti mentre il presidente si avvicina. Gloria all'Ucraina. È voluto venire qui nella città martoriata alle porte settentrionali della capitale per parlare con la sua gente, dirgli che è qui accanto a loro e mostrare al mondo la sua presenza dalla città che ha scioccato tutti con le immagini del massacro dei civili. Le donne gli raccontano dei loro uomini scomparsi, delle esecuzioni, di famiglie tenute in ostaggio per giorni nelle case occupate dai soldati russi. Donne e bambini che hanno vissuto accerchiati e poi occupati, hanno visto portare via tutto dalle loro case, soprattutto hanno visto giustiziare i loro figli, i mariti, i padri. Gli uomini della comunità, Buccia oggi, si presenta così. Questo è ciò che resta della via della battaglia. Centinaia di metri di case distrutte, carri armati carbonizzati e macerie. È da qui e dalla città limitrofa Gostomel che i russi volevano avanzare verso la capitale. Non ci sono riusciti, respinti, dalle forze armate ucraine. Ma hanno lasciato alle spalle distruzione e racconti di terrore, violenze inimmaginabili. Oggi resta il terrore di queste settimane e una vita che è ancora la vita al tempo di guerra. Rifugi in cui si vive cucinando, fuori, al freddo, con la legna, perché non c'è gas, né elettricità. Code per il pane, code per le medicine. Igor vive qui. Questa è la soglia di casa sua. Non ha potuto varcarla per dieci giorni. Quando un carro armato russo si è posizionato al centro di queste case, il comandante ha detto alle donne di andare nei rifugi, agli uomini di rimanere in casa. Non provate ad uscire, ha detto loro o vi uccideremo. E così hanno fatto, racconta Igor, con tutti quelli che hanno provato a uscire di casa, affacciarsi alle finestre e provare a chiedere aiuto. Lui si è nascosto per giorni sperando di essere risparmiato. Per un mese ad accompagnarlo è stato il rumore delle bombe e la paura di morire. Non si toglierà mai dagli occhi le esecuzioni che ha visto, gli uomini uccisi davanti casa, solo per aver chiesto ai soldati russi. Vi prego, abbiate pietà. Ma lì a Buccia Zelensky ha ancora parlato e con durezza. La sua durezza è diventata poi la durezza di tutto il resto dell'Occidente. Sentiamo insieme. Un genocidio come non se ne sono mai più visti in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. È crudo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando del massacro da Buccia. Questi sono crimini di guerra, ha detto Zelensky nel corso della sua visita. Sappiamo che migliaia di persone sono state uccise e torturate con amputazioni, che le donne sono state stuprate e che sono stati assassinati bambini. Zelensky ha poi dato dei macellai, assassini, torturatori e stupratori ai soldati russi. Poi, rivolgendosi alle madri dei militari di Mosca, ha chiesto, anche se avete cresciuto dei saccheggiatori, come possono essere diventati macellai. Hanno ucciso deliberatamente e con soddisfazione. Gli hacker di InfoNapalm hanno tirato fuori anche un elenco di 1.600 militari russi di stanza Buccia, che additano come responsabili. Si tratta dell'unità militare 51460, 64esima brigata di fuciliari motorizzati. A guidarli il tenente colonnello Asambenkovic, che appare in questa foto. Di molti InfoNapalm pubblica documenti, indirizzi, grado, elementi cardine che possono dare il via da parte dell'Ucraina stessa e dell'Occidente ad un'inchiesta per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. L'ultimo a chiederla in oltre di tempo è il presidente americano Biden. Avete visto cosa è successo a Buccia, ha detto Biden, che è tornato a definire il presidente russo Vladimir Putin un macellaio, un criminale di guerra. Dobbiamo raccogliere tutti i dettagli perché si possa avere un vero processo penale. Quanto è avvenuto a Buccia è oltraggioso. Gli Stati Uniti chiederanno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e anche di sospendere la Russia dal Consiglio per i diritti umani di Ginevra. Il mandato dura tre anni, Mosca è al suo secondo, ma con il voto favorevole dei due terzi dei membri può essere estromessa. Chi già si muove è l'Europa. L'Unione ha istituito assieme all'Ucraina un team di investigativo per raccogliere prove sui crimini di guerra e i crimini contro l'umanità, ha spiegato la presidente della Commissione von der Leyen dopo aver sentito per telefono Zeresky. Siamo pronti ad aumentare gli sforzi inviando delle squadre investigative di Eurojust e Europol sul terreno per dare sostegno alla Procura Ucraina. Le strazianti immagini viste, ha sottolineato von der Leyen, non possono e non saranno lasciate senza risposte. Chi ha commesso questi crimini atroci non resterà impunito. Ma Zelensky, che abbiamo visto nei servizi dell'incontro con la nostra Francesca Mannocchi e poi nelle parole che ha pronunciato davanti a tutti i microfoni, è stato anche protagonista di un'altra ispezione, oltre a quella all'ospedale di Buccia. Stiamo per vedere infatti le immagini del suo transito, della sua ricognizione sul ponte di Irpin, il ponte che abbiamo imparato a conoscere nei giorni più difficili di questa guerra. Ecco le immagini che sono inevitabilmente da pellicola propagandistica, ma documentano non soltanto il passaggio di Zelensky, ma anche quello che è diventato, quella che era un'arteria la più importante per passare dalla capitale al nord-ovest del paese. È diventato, come vedete, un enorme cimitero di lamiere. E questa è la visita di Zelensky al ponte. Ponte che sono stati, non dimentichiamolo, gli stessi ucraini a far crollare in parte per impedire l'avanzata nei primi giorni di guerra dei russi, la famosa carovana russa verso Kiev. Ma si dirà, abbiamo sentito quelle che sono le argomentazioni di Zelensky dell'America, dell'Occidente, tra l'altro espulsi nel pomeriggio i diplomatici russi dalla Germania e poi poco fa la notizia anche dalla Francia. Come reagisce Mosca? Una messa in scena, una messa in scena dell'Occidente e dell'Ucraina sui social network. Così il ministro degli esteri, Sergei Lavrov, bolla la strage di Buccia, avvenuta precisa dopo il ritiro delle truppe russe, il 30 marzo. A dire il vero, lui non usa la parola strage, bensì la chiama situazione, la situazione a Buccia. Un po' come Putin, che si rifiuta di definire guerra quella che dall'inizio ha subito battezzato operazione speciale. A breve, a New York, dice Lavrov, in una conferenza stampa presenteremo del materiale su quanto è avvenuto a Buccia. Non a caso, il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, invita i leader internazionali ad ascoltare la voce di Mosca, a non affrettarsi a giudicare e torna a chiedere una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Mentre da Mosca, il Comitato Investigativo, il principale organo investigativo della Federazione Russa, ha annunciato che ci sarà un'inchiesta russa sulle uccisioni di civili nella città di Buccia. Che ci siano stati morti e ammazzati, il Cremlino insomma non lo nega, ma smettendo che le truppe russe abbiano compiuto omicidi di massa ed esecuzioni sommarie, è come se affermasse che sono stati gli stessi ucraini a trucidare i loro concittadini. Ma perché lo avrebbero fatto? La spiegazione la fornisce la portavoce del Ministero degli Esteri russo. Scrive Maria Zakharova su Telegram. L'interruzione dei negoziati di pace è l'obiettivo del crimine del regime di Chieve nel villaggio ucraino di Buccia, opera dell'esercito e dei radicali ucraini. La Zakharova va oltre. Se gli americani vogliono investigare i crimini di guerra, scrive che comincino con i bombardamenti sulla Jugoslavia e l'occupazione dell'Iraq e non appena finiscono, possono passare ai bombardamenti nucleari sul Giappone. Vladimir Putin non ha intervenuto sul massacro di Buccia nel giorno in cui ha firmato un decreto per sospendere gli accordi sui visti semplificati con i paesi europei, con la Norvegia, la Svizzera, la Danimarca e l'Islanda, tutti considerati come ostili alla Russia. Stando così le cose, non desta neppure sorpresa la sua decisione di non incontrare il vice segretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari Martin Griffiths, arrivato a Mosca ieri. Ma c'è una partita che si lega a tutte quelle che abbiamo sentito e quella ovviamente energetica. Si sa, si è detto da più parti già ieri di fronte alle immagini di Buccia che la cosa forse più importante e giusta da fare è interrompere completamente le importazioni energetiche dalla Russia per non dover dare del danaro, un'immensa quantità di danaro a chi lo impiega probabilmente, impiega i proventi delle esportazioni energetiche anche nella guerra. Ma non è così facile. Un nuovo pacchetto di sanzioni, le più pesanti contro la Russia sono all'ordine del giorno dell'Europa. in agenda l'embargo energetico che trova però i 27 divisi con la resistenza di Germania, Austria e Ungheria. Gli 800 milioni al giorno della bolletta energetica pagata a Mosca dalla UE finanziano la guerra all'Ucraina. L'eccidio di Buccia rende il tema dell'embargo più pressante. Oggi in Lussemburgo hanno cominciato a parlarne i ministri delle finanze. Il no più deciso è arrivato da Vienna. Le sanzioni colpirebbero più noi della Russia. Siamo contrari, ha ribadito il ministro Brunner. Il presidente francese Macron, presidente di turno dell'Unione, propone intanto un embargo su petrolio e carbone. Dice che ne parlerà in sede europea, in particolare con la Germania. Perché dopo quella che era sembrata ieri un'apertura, Berlino tira il freno sull'embargo energetico. Per ora non è possibile eliminare il gas russo anche se vogliamo diventare il prima possibile indipendenti. Abbiamo bisogno di tempo la linea tedesca. La Germania dipende al 55% dall'import di Mosca. Più dell'Italia che dipende al 40% dall'energia russa. E tuttavia si dice pronta a discutere l'embargo. Il ministro degli esteri Di Maio ribadisce che Roma non metterà vetti e insiste per mettere subito un tetto al prezzo massimo del gas. Opzione bocciata però dall'ultimo Consiglio europeo, così come la proposta di Draghi di separare il prezzo dell'elettricità da quello altissimo, del gas. Potremmo farcela senza il gas russo per i prossimi mesi, assicura il ministro della transizione ecologica Cingolani. Il problema si riproporrà però in autunno e la decisione può essere solo comunitaria. Per l'embargo in Italia si è schierato per primo il leader Dem Enrico Letta trovando consensi a sinistra, ma freddezza e silenzio della Lega dal centro-destra. Siamo pronti a tutto, nulla escluso, assicurano intanto fonti della Commissione europea. Ma bisognerà vedere se ci saranno le condizioni politiche. Lo dice il commissario Gentironi che prevede con la guerra anche gravi conseguenze sull'economia del continente. Dopo l'eco fino ad oggi e domani e la messa a punto del quinto pacchetto di stazioni in settimana per assumere nuove decisioni potrebbe essere convocato presto. Un Consiglio europeo straordinario. Ma quindi in Europa sono tutti d'accordo? Sono tutti contro la Russia? No, e per quanto riguarda l'Unione europea sicuramente non è contro l'Ungheria di Orban. E Orban ieri ha vinto e come le elezioni nel suo paese. Così come le ha vinte quello che è il vero grande alleato della Russia nell'Europa fisica, ovvero il leader della Serbia, Vucic. Anche lui ieri trionfatore delle elezioni in patria. Ha vinto per la quarta volta consecutiva Viktor Orban, conquissa la maggioranza dei voti all'Assemblea nazionale ungherese e vince di una vittoria grande come la Luna, così la definisce. Quel 53% delle preferenze ha spiazzato anche lui, che si è presentato da solo e ha sfidato tutte le altre coalizioni. Ce l'ho fatta contro tutti, ha commentato. Contro le elite burocratiche dell'Unione europea, il finanziere George Soros e i media di Mezzomondo in appoggio al presidente ucraino Zelensky. Un messaggio chiaro che ribadisce la sua posizione ancora una volta in Europa, come amico di Putin, da cui arrivano le congratulazioni, e di traverso rispetto ai 26 dell'Unione a tanti temi aperti con Bruxelles. Oltre ai fondi dei recovery fund, che a Budapest non sono ancora arrivati a causa della corruzione dei bassi standard nel rispetto dello Stato di diritto, Orbán da subito ha dichiarato niente armi all'Ucraina, niente passaggio di aiuti militari verso Kiev e niente sanzioni energetiche alla Russia. Non metterò a repentaglio la sicurezza energetica degli ungheresi, aveva detto. Il leader europeo più freddo nei confronti dell'Unione europea e della NATO, che però ha accolto mezzo milione di rifugiati ucraini, conferma anche che si è spezzato quell'asse di Visegrad così stretto prima dell'inizio della guerra nell'opposizione ai paesi del Mediterraneo, per esempio, su conti pubblici e profughi, con la Polonia ora invece schierata in prima linea contro Putin. In patria, Orbán ha puntato sull'essere quindi garante della pace, accusando l'opposizione di voler mandare l'Ungheria in guerra, tappezzando le città di manifesti, dipingendo gli avversari come pericolosi. Da una parte la guerra, voluta dagli oppositori, dall'altra lui e la pace. Gli ungheresi lo hanno seguito, anche se in questa giornata di vittoria Orbán incassa una sconfitta proprio sul tema dei diritti umani. Il referendum sulla legge che vieta la promozione dell'omosessualità ai minori è risultato nullo per mancanza di quorum. Anche il premier uscente serbo Aleksandr Vucic stravince nelle elezioni di ieri, sfiorando il 60% dei voti. Per la seconda volta gli è bastato il primo turno per vincere. Dobbiamo vedere cosa fare per ciò che concerne il petrolio. Vi saranno colloqui sul gas, ma continueremo i nostri buoni rapporti con Mosca e Bruxelles e una neutralità militare per una politica di pace, ha commentato. E gli italiani cosa pensano della guerra, di tutto quello che sta succedendo? Ci sono due quesiti che sono stati posti nel nostro sondaggio settimanale con SVG. Vediamo insieme. Gli italiani e la guerra in Ucraina esprime il suo grado di accordo o disaccordo con queste affermazioni. Per risolvere la situazione non si deve solo cercare un accordo per finire la guerra, ma anche cercare di destituire Putin ed accordo il 50%, metà degli interpellati. Il 33% è in disaccordo, il 17% risponde non saprei. Le azioni svolte dall'Occidente non stanno andando nella direzione di portare la pace. Anche qui, 45% è d'accordo con questa affermazione. 36% contrario, il 19% non saprei. Se l'Occidente non fosse intervenuto, Putin non si sarebbe fermato all'Ucraina e avrebbe attaccato altri paesi. È d'accordo il 43%, in disaccordo il 38%, il 19% non saprei. Ma quello quesito, la domanda a cui c'è una risposta più ampiamente convergente, è quella contro questa affermazione. La Nato avrebbe dovuto intervenire militarmente contro i russi anche a rischio di una forte escalation nel conflitto. D'accordo il 15%, in disaccordo il 70% degli interpellati, del campione. Allora, vediamo anche, come ogni lunedì, come andrebbe se si votasse oggi. Ancora una volta, prima forza è, speriamo di vederlo, eccolo qua, Fratelli d'Italia, 21,6%, invariato, Partito Democratico guadagna lo 0,3%, 21,4%, La Lega perde lo 0,2%, 15,8%, Movimento 5 Stelle perde lo 0,1%, 13,3%, Forza Italia, 7,7%, meno 0,2%, Azione più Europa, 5,3%, meno 0,1%, vedete variazioni molto, molto limitate. Seconda parte, quella del gruppo del 2%, MDP articolo 1, 2,8%, più 0,2%, Verdi 2,4%, meno 0,1%, Sinistra Italiana 2,3%, meno 0,2%, Italia Viva 2,2%, meno 0,2%, Italexit con paragone, 2,1%, più 0,3%. E andiamo a un altro aspetto, abbiamo parlato di energia, tantissimo, ne parliamo già da prima della guerra, è il caso di dire, guerra arrivata al quarantesimo giorno, sono meno 8 settimane, ben prima, quindi due settimane prima della guerra, che una delle questioni più importanti è quella dell'energia, della nostra bolletta, quante volte abbiamo usato il termine in senso stretto, in senso individuale e generale come sistema Italia, la bolletta della luce del gas. Bene, gli italiani ne sanno qualcosa in questi giorni e non soltanto per i timori, il data room di Minea Gabanelli. Tutti sappiamo a chi paghiamo l'elettricità o il gas, in pochi che tipo di contratto hanno in mano, se in regime di tutela o a libero mercato. Se è tutelato, paghiamo il prezzo definito dall'autorità per l'energia ogni tre mesi ed è legato all'andamento del mercato speculativo che è esploso. Lo hanno in 11 milioni e 8 di utenti per l'elettricità, 8 milioni e 4 per il gas. Il mercato libero ha 18 milioni di clienti per l'elettricità e 12 milioni per il gas. I rivenditori sono 723 e ognuno applica un po' il suo prezzo a seconda del tipo di contratto che hai, variabile oppure fisso e funziona un po' come il mutuo. Chi ha fatto un contratto fisso per un anno, due anni o tre adesso per esempio sta risparmiando moltissimo. Ma ora le condizioni però stanno cambiando un po' per tutti e allora come faccio io ad orientarmi per capire che cosa è più vantaggioso per me? I fornitori di energia e gas ovvero Enel, Eni, A2A, ERA, Acea, IREN vendono sia sul mercato tutelato che sul libero mercato e spingono i loro clienti ad andare verso il libero mercato. Lo hanno già fatto il 50%. Però non è che ti mandano un'offerta a casa per posta. C'è qualcuno che ti suona la porta oppure ti chiama qualcuno dal call center dicendo magari sono Enel Energia invece è uno dei 723 venditori che ti dice fai così che risparmi. Da ricordare queste offerte da chiunque provengano non sono mai nel tuo interesse ma del fornitore. Quindi meglio non accettare e non dare mai i codici che consentono di identificare il contatore. Per individuare l'offerta più vantaggiosa prima di tutto devo sapere che tipo di contratto ho. E sta scritto sulla prima pagina della bolletta in alto e quanto pago per kilowattora guardando la voce spesa per l'energia e dividerla per il consumo fatturato. A questo punto si va su ilportaleofferte.it ed escono tutte a confronto nel 2021 su oltre 1300 offerte meno di una su dieci faceva effettivamente risparmiare. Insomma per capire cosa è realmente conveniente devi studiartelo bene quel portale magari con l'aiuto di un tecnico perché il diavolo si nasconde nei dettagli e dal 2024 sarà tutto libero mercato. Allora Milena parto da una cosa che ha riguardato me ma ha riguardato milioni di italiani. Ieri mentre stavo descrivendo nel pomeriggio le immagini che arrivavano da Buccia quelle immagini terribili mi è squillato in senso lato perché ovviamente non ho la suoneria il cellulare pensavo che fosse un'importante comunicazione sul tema dello speciale che stavo conducendo era l'ennesima telefonata di un'offerta speciale di energia ma non si può far niente non lo chiedo solo per me sono milioni penso gli italiani che vedono squillare il cellulare numeri cellulari che uno pensa di qualche amico conoscente qualcuno che ha bisogno e poi lei è una a quella tarifa cosa si deve fare? Allora intanto non esiste un paese che sia uno che ha 723 venditori quindi la prima cosa che dovrebbe fare quantomeno l'antitrust è un albo di operatori qualificati perché questa è veramente una giungla e l'altra io mi chiedo come è possibile che questi in realtà sanno tutto non solo hanno il tuo numero ma sanno perfettamente che tipo di contratto hai quindi il suggerimento è dare ovviamente meno informazioni possibili per identificare appunto il contatore ma molto spesso già ce l'hanno quindi cioè qui è necessario l'intervento del garante della privacy dell'antitrust cioè un sistema regolatorio perché tanto più adesso con i prezzi che sono ovviamente aumentati tantissimo cioè stanno stalkerizzando e vessando le persone spacciandosi per quel che non sono tra l'altro perché veramente ti dicono sono Enel Energia perché dà come dire maggior fiducia lo fa anche Enel ma in realtà non lo sono io l'ho fatto ho verificato questi numeri chiedendo direttamente e mi hanno detto che non sono loro quindi cioè questo è da eliminare sarebbe corretta un'offerta per posta uno capisce chi gliela manda è a modo di studiarsela perché diversamente veramente si rischia di essere imbrogliati ecco ma la questione è questa io sono per la libertà per carità ma non si può vietare le telefonate attive nel tentativo di pescare le persone è ovvio una persona che ha da fare o una io noi abbiamo mille sistemi ci sono persone anziane che magari vengono abbindolate come succede in altri campi molto più facilmente ma non dovrebbe essere vietata questa pesca attiva agli utenti ma dovrebbe sì essere vietata in parte anche lo è ma la questione è che uno dovrebbe sporgere denuncia cosa dovrebbe fare è veramente difficile adesso tu prendi su e vai a denunciare quel numero che ti ha chiamato no perché è una rottura di scatole e quindi dentro a questa quantità no di persone anche che ti suonano alla porta con un cartellino che molto spesso non è reale nemmeno quello quindi cioè ci vorrebbe una presa di coscienza collettiva e andare a denunciare tutta questa gente perché non è regolare tutto questo dopodiché uno dice mi facessero un'offerta che comunque è conveniente io la collega ravizza ci siamo spaccati la testa per due settimane andando sul portale che è l'unica cosa che puoi fare per capire perché a questo punto i contratti anche chi ha fatto il contratto fisso quindi ha risparmiato molto ovviamente perché non è cambiato il prezzo però a un anno fra un po' gli scade cambia tutto non è più quel prezzo là quindi io devo capire che cosa succede lì dentro in queste 1300 offerte dove apparentemente sembra che risparmi e ci sono sicuramente dentro delle convenienze e ha senso per le imprese perché si consultano con un tecnico ci spengono la luce tra poco no scherzo ho promesso che siamo brevi perché stasera tu lo sai no allora la cosa da fare scusami però non può essere che il servizio di tutela finisca fra un anno e quindi però devono cambiare i prezzi oggi quel mercato l'acquirente unico compra a prezzi che sono definiti dalla grande finanza speculativa quindi deve cambiare detto molto in maniera semplice deve cambiare il sistema l'algoritmo che calcola i prezzi quantomeno per le utenze domestiche ma questa è una decisione politica grazie Milena perché tentavo di fermarti anzitempo perché oggi rispettiamo maggiormente ancora di più i tempi stasera infatti in qualche modo la realtà si avvicina alla fiction perché da stasera alla 7 trasmette quella famosa serie che aveva per protagonista l'allora soltanto attore Volodymyr Zelensky che da cittadino comune poi diventa presidente come è successo nella realtà vediamo brevemente a proposito sa questo chi lo indossa no chi Putin Putin un ubrò sì però io le consiglio questo ci sono solo quattro esemplari al mondo che ne dice? io davvero non so che scegliere mash le interesse andiamo avanti profumo va bene questo è soltanto un frammento questa sera dopo 8 e mezzo le prime tre puntate della serie della serie appunto che ha per protagonista il più giovane Volodymyr Zelensky a 8 e mezzo invece troverete ospiti Lilli Gruber Lucio Caracciolo Lina Palmerini Kuno Tarfusser e Stefano Feltri ci fermiamo Eccoci allora vediamo insieme previssimamente le borse perché anche sono poco mosse Milano ha chiuso non più 0,05 come vedete e Wall Street guadagna 0,25 col Dow Jones 1,67 col Nasdaq è tutto dovrei dire Gruber Zelensky ma insomma avete capito cosa c'è dopo appuntamento domani alle 17 se volete per il 41esimo speciale sulla guerra o se no alle 20 buonasera